Ehi! Ehi come va? Mi serve il tuo aiuto, vieni qui! Non posso, sto comprando vestiti! Va bene, raggiungimi quando hai finito! Non riesco a trovarli! Che vuol dire che non riesci a trovarli? No, c'è solo zuppa qui! Cosa significa che c'è solo zuppa? Significa che c'è solo zuppa! E allora cambia reparto! Ok, non c'è bisogno di urlare! C'è altra zuppa! Come c'è altra zuppa? C'è solo altra zuppa! Vai in un altro reparto! C'è sempre zuppa! Ma dove sei adesso? Sono alla zuppa! Che intendi con alla zuppa? Intendo alla zuppa! Ma in che negozio sei? In un negozio di zuppe! Perché stai comprando vestiti in un negozio di zuppe? Vaffanculo!